questa è la zona dove c'è l'evento con davanti al laghetto ci sono i bagni tutti i stand noi ci mettiamo anche qua facciamo un soldo di danno qui c'è il palco c'è il palco qui sarà un sacco di gente e stanno montando qualche cosa probabilmente la parte dello yoga è questa